Il futuro di canili, gattili e annessi servizi per gli animali d'affezione finisce sul tavolo delle Consiglio Comunale con l'assessora alla sostenibilità Aidi Morotti che ieri è stata chiamata a rispondere all'interrogazione protocollata dai consiglieri Redaelli e Marchionni che avevano avanzato preoccupazioni su servizi dati per assegnati ad Aspes a inizio anno e di fatto mai formalizzati. Di fronte alla preoccupazione di una scadenza di gestione che sarebbe arrivata il prossimo primo di maggio, l'allarme delle associazioni animaliste che gestiscono le strutture si è materializzato in una proroga fino al 31 dicembre confermata ieri dall'assessora. Sono stati prorogati al 31 12 2022 i contratti con gli attuali gestori, quindi Cooperativa Sociale T41B per il canile sanitario comprensoriale e rifugio soprastante, Associazione Animal House on Luce, rifugio sottostante e Associazione Animalia ODV per il gattile sanitario. La Morotti ha sottolineato la difficoltà burocratica del passaggio di gestione ad Aspes, l'opportunità della proroga e l'impegno a valorizzare le strutture anche attraverso alcune iniziative che sono state frenate dalla pandemia nell'ultimo biegno. Una promessa di impegno che ha soddisfatto l'interrogazione di Redaelli e Marchionni, tranne che su un punto, quello della gestione del cimitero per animali, gestione che richiederà presumibilmente altri chiarimenti. Quello che non si capisce nella risposta a questa interrogazione è relativo al campo di sepoltura, che ad oggi ci risulta chiuso o non funzionante, non efficace in questo momento e non si capisce nella risposta se e in che modo verrà effettivamente affidato a chi, probabilmente ad Aspes quando subentrerà nel contratto, ma ad ora, visto che c'è stata la proroga fino al 31-12, sembrerebbe non esserci nessun affidatario. Ecco, se così fosse, cioè che per tutto l'anno non ci fosse questo servizio, sarebbe un problema. Grazie a tutti.